Ciao a tutte e benvenute in questo nuovo video! Oggi mostrerò un altro outfit che utilizzerò stasera per uscire con gli amici e andare in giro per locali quindi sarà qualcosa di elegante ma non troppo per non cadere nell'eccessivo Allora, di sopra indosso questa maglietta con questi fiorellini, queste margherite e poi il resto è appunto tutta bianca e di qua questa balza corta e di dietro invece è molto più lunga Io in pratica le chiamo la maglietta e la Lady Oscar Comunque, di sotto indosso dei semplicissimi jeans chiari con le sfumature bianche qui nelle cosce Come scarpe indosso questi décolleté beige con il tacco sottile appunto non ci sono più abituato ad indossare le scarpe sottili però vabbè tanto non devo fare chissà che camminate, quindi ci sta indosserò di sopra questa giacca beige con un solo bottone che ovviamente non chiuderò sia perché mi andrebbe stretta sia perché non ci sta comunque appunto ci sto utilizzando questo bottoncino, delle tasche finte sia qui che qui e poi c'è la particolarità dei polsini che sono con questi fiorellini blu e con i petali marroni come borsa utilizzerò questa bianca con i manici neri solo che essendo sera dovrò utilizzare una borsa più piccola ma non ci sono abituata quindi utilizzerò questa semplice semplice come accessori indosso queste orecchine perla che in pratica sono le stesse di sempre perché appunto non lo so mi ci trovo bene perché si abbinano con tutto e mi sbrigo ogni volta comunque poi come collana indosso questa catena come anelli invece ho questo che sembra in pratica un anello di fidanzamento e c'è qua il fermanello perché mi sta un po' grande poi questo anellino con le zambette da gatto mettiti a fuoco nell'altra mano invece intosso questo con queste perle e questa coroncina come bracciali niente di che questo bracciale con le perle e nell'altro abbraccio un elastico per capelli con i brillantini quindi questo era l'outfit spero che vi sia piaciuto e andiamo al prossimo video un bacio ciao